Allora, chiudiamo questa serie di interviste con la bellezza, signori. Qui sono senza parole, senza fiato anche, perché ho Maresa Palmaci, ho Sofia Chiappini, due splendide donne che aglieteranno questa serata dedicata ai fuori classe con la loro eleganza. Per me innanzitutto è un onore stare dall'altra parte. Ah, ecco. Sì, stare dall'altra parte perché sono abituata a stare dall'altra parte della telecamera quando Andrea fa le sue interviste. Però c'è sempre una mia volta. Infatti è un onore essere intervistata da te. Allora Sofia, come affrontiamo questa serata? Allora, l'affrontiamo con la gioia, no scusate, io in tutto questo sono scalza perché ho più abilità di vestirmi. Ma sei più alta di te? Ah, sì. Sono più alta di te quando mi metterò i tacchi. Sì, ok. Adesso sono all'incirca così, ecco, naturale, quindi ti guardo. E niente, con leggerezza, con divertimento, con l'estrema gioia di essere riusciti a finire questa giornata. Che sarà molto impegnativa. Molto impegnativa, ma soprattutto... Soprattutto per i piedi, immagino. Soprattutto per i piedi. Ma soprattutto la gioia di questa collaborazione. Bene, io mi sento in dovere di ringraziare Stefano Marafonte, ma soprattutto tutto lo staff del Teatro dei Servi, che ci ha accolto con amore, collaborazione e che ci aiuterà, diciamo, a far salpare questa stagione fuori classe. Bene. Insomma, voglio dire belle parole, quelle di Sofia. Assolutamente. Grazie per i ringraziamenti al Teatro dei Servi, anche allo spazio 18B, che da quest'anno mi ha accolta. Abbraccio aperte. Abbraccio aperte. Voglio dire, potrebbero essere i protomi per una lunga collaborazione, Sofia? Oddio, lo speriamo, ma io sono molto scaravantica come teatrante, quindi... Contentiamoci di adesso. Accontentiamoci, accontentiamoci. Non fare domande scomode da giornalista, eh. Sì, è un attimo giornalista, da ufficio stampa posso dire, Andrea, se può fare la domanda scoop, la fa, giustamente, no? Allora, noi siamo tesi, Andrea. Allora, voi non potete vedere, ma insomma, qua c'è un tacco qui, 15? No, è un tacco 10, 12. Perché già c'è tanto di suo, c'è tanto già di suo, quindi poi... Mentre anche tu sei sui... Io, sì, dopo sarò sui 18, 15, però vedi la differenza. Aspettiamo, avremo due corrazzieri sul palcoscenico. Speriamo che questa cosa sia. Allora, io sono in prima fila e quindi me le godrò interamente. Detto questo, grazie a Marisa Palmaci, grazie a Sofia Ghiapini, veramente in bocca al lupo di cuore per questa serata. Viva il lupo! Viva il lupo! Viva il teatro di Servi, viva lo spazio 18B! Viva il teatro, ragazzi! E viva il teatro! Ciao!